Il presidente del Consiglio Comunale di Modica, Roberto Garaffa, ha convocato per oggi una conferenza dei capi gruppo alla presenza del Revisore dei Conti per affrontare due tematiche di fondamentale interesse per l'amministrazione modicana e per i cittadini. Il consuntivo 2014, già scaduto il 30 aprile, e il bilancio di previsione 2015, ormai con le ore contate, dato che scadrà il prossimo 30 luglio, tra soli due giorni. Ad oggi la Giunta non ha ancora approvato il bilancio di previsione. Per fare chiarezza al bilancio annuale di previsione, il documento fondamentale per la gestione dell'ente locale, che consente di esplicare la funzione programmatica della gestione in vista degli obiettivi prefissati e consente di attivare un efficiente e efficace controllo di gestione. La mancata approvazione pregiudica quindi la pianificazione finanziaria di tutte le attività dell'amministrazione. È necessario che l'amministrazione approvi celermente il bilancio di previsione ed invii il deliberato in Consiglio, sancisce Roberto Garaffa, presidente del Consiglio Comunale. L'Anci sta lavorando per ottenere una proroga al 30 settembre, tuttavia ad oggi non c'è nessuna proroga e non è detto che arrivi. Pertanto è indispensabile che nella riunione con i capi gruppo l'amministrazione presenti azioni concrete e risolutive, spiega Garaffa. L'altro punto fondamentale sarà l'annosa questione del Consuntivo 2014, scaduto da mesi e che ad oggi non ha ancora il parere dei revisori dei conti, in quanto mancano documenti richiesti da tempo dall'organo non ancora consegnati dall'amministrazione. Il mio ruolo di presidente del Consiglio Comunale, sancisce Garaffa, mi impone di sottoporre all'attenzione dei capi gruppo questi gravi ritardi dell'amministrazione, che potrebbero portare al commissariamento del Comune da parte dell'assessorato regionale agli enti locali. Il mio ruolo di presidente del Consiglio Comunale, sancisce Garaffa, mi impone di sottoporre all'assessorato regionale agli enti locali.